Elena Murelli, Elena Murelli, bella parlamentare leghista, bella, c'hai anche un bel nome Elena Murelli, ti chiami come Elena di Sparta, Elena di Troia, io ne parlo tanto eh, di Elena di Sparta, o vero Elena di Troia, in questa mia opera storico-mitologica, capito Elena Murelli? Sei bella, una bella parlamentare, sai anche un bel nome Elena, Elena, Elena di Sparta, la moglie di Menelao, che poi si è innamorata di Paride ed è scoppiata la guerra di Troia, Elena Murelli, perché Elena Murelli hai detto? Che noi, cioè voi che avete accettato una certa somma governativa causa coronavirus, avete detto, hai detto tu Elena Murelli, noi abbiamo accettato l'elemosina di 600 euro Elena Murelli, perché l'hai chiamata elemosina? questa somma di 600 euro mensili, ma lo sai che il governo, il governo fatto da Movimento Pentastellato, PD, Italia dei Valori, L'EU, Libri Uguali, ha erogato pure, ha regalato agli italiani anche il reggio di cittadinanza, che il quale reggio di cittadinanza, se tu non lo sai, io ti dico che è già, è previsto, è previsto dalla carta costituzionale, è previsto dal secondo gomma, articolo 3 della carta costituzionale, e io queste cose le conosco molto bene Elena Murelli, perché io sono stato professore di filosofia e storia nei dicei classici e scientifici, e poi sono stato pure preside di ruolo, cioè vincitore di concorso, preside di ruolo nei dicei classici e scientifici, perché dici queste cose Elena Murelli? l'elemosina di 600 euro, non si dicono queste cose Elena Murelli, cara Elena Murelli, ma io sono un uomo buono, ti voglio bene cara, allora io a te Elena Murelli e a tutti voi, invio tanti cari saluti, mostrandovi qua la stipe del serpente, ok, ok, ok.